ciao ragazzi bentrovati con questo nuovo filmato sono all'interno del mio garage non ditemi niente prometto a me stesso che prima o poi metterò a posto tutto quanto dicevo sono qui all'interno del mio garage e questo video è interamente dedicato alla sostituzione del manubrio originale della mia Royal Enfield Interceptor 650 non che non vada bene assolutamente ma purtroppo a causa di una mia scivolata di conseguenza ho storto il manubrio ma ma ho scelto un'azienda italiana quindi un made in Italy lo sapete io prediligo i prodotti del nostro tricolore e sto parlando di SRT Factory andiamo a vedere SRT Factory è un made in Italy dove sono tantissimi anni che loro studiano ricercano progettano nuove linee ascoltano le esigenze dei motociclisti che sono ovviamente tantissime poi ognuno ha le sue in base anche ai propri gusti voglio farvi vedere giusto così qualche dettaglio importante che è necessario farlo notare ad esempio prendiamo un vecchio manubrio da diciamo da enduro da motocross con traversino io voglio solo far notare un piccolo dettaglio poi magari prendiamo anche un altro manubrio non proprio scadente come questo però voglio far notare ad esempio lo spessore di questo manubrio praticamente è di appena 4 mm ok magari prendiamo invece a livello del foro all'interno vediamo invece quanto misura e stiamo addirittura alla bellezza di 18 mm di larghezza ok quindi abbiamo capito che lo spessore del manubrio stesso è davvero molto molto sottile a prescindere dal materiale mettiamolo da parte passiamo invece a uno già un po più recente in questo caso quindi già un po più moderno notevolmente più leggero allora qui prendiamo lo spessore e stiamo a 4 mm andiamo a vedere il foro centrale quanto realmente è largo 15 mm in questo caso qui quindi diventa già più più spesso rispetto a quello di prima andiamo a prendere quello srt già qua si vede effettivamente la notevole differenza sia a livello di leggerezza andiamo a vedere sempre il confronto quindi andiamo a vedere di quanto è spesso il materiale parte che in ergal quindi allora andiamo a vedere e qua siamo già a un 5 mm ok lì vi ricordate 4 andiamo a vedere il foro centrale praticamente allora in questo caso abbiamo 11 11 11 più o meno 12 anche qua il mio calibro preso da dubbia provenienza però comunque il suo mestiere lo fa allora dicevo io ho scelto un classico manubrio con traversino già vedo effettivamente confrontandolo sia con gli altri manubri e sia col manubrio originale vedo già che c'è una netta differenza soprattutto nell'angolazione lo vedo un po più ampio quindi sicuramente una padronanza maggiore sulla guida andiamo a vedere e quindi Grazie a tutti. 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 Il manubrio è un elemento fondamentale, importantissimo per la nostra motocicletta. Quindi dedichiamo qualche minuto in più di attenzione su questo elemento così determinante perché vi posso garantire che, lo dico nel mio caso, quindi per esperienza, vi può migliorare la guida sotto tanti aspetti. Collegatevi sul sito srtfactory.com è un sito fatto benissimo e lì troverete tutte le indicazioni, tutti i prodotti, quindi dal manubrio con traversino a ovviamente poi manubri anche da 22, da 25, addirittura da 28. Quindi di altissima tecnologia con standard di qualità davvero eccellenti. Se nel caso avete qualche difficoltà e avete bisogno magari di una consulenza in più, non esitate a contattare i ragazzi di SRT Factory. Alla prossima, ciao ragazzi!